Dolomia è un'acqua oligominerale di alta qualità. Il suo valore di pH la rende gradevole al palato e contrasta l'acidità dell'organismo. L'altissimo contenuto di ossigeno disciolto produce un benefico effetto vitalizzante. Il basso residuo fisso fa di essa una delle acque oligominerali più leggere. La quasi totale assenza di arsenico ne attesta l'eccezionale purezza. In virtù del basso tenore di nitrati è l'ideale per bambini e adulti. Non solo, grazie al contenuto di sodio straordinariamente basso è la più indicata per le diete povere di sodio e la prevenzione della ritenzione idrica. Il calcio, in forte concentrazione, rinforza la struttura ossea e migliora il funzionamento sia del sistema muscolare, sia di quello nervoso. La ricchezza di magnesio contribuisce alla reintegrazione salina dopo l'attività fisica. E la quantità ottimale di bicarbonato, poiché contrasta la formazione di acido lattico, la rende perfetta per chi pratica sport. Il valore è nei suoi valori. Edolomia, l'acqua di origine protetta.